ciao a tutti ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video oggi come avete letto dal titolo e come avete visto apriamo la debusta box insieme e vi farò vedere le sorprese che trovo dentro guarda guarda adesso vediamo cosa c'è guarda c'è una cosa buona da mangiare ecco questa qui è la box del mese di giugno vi diremo i prezzi mano a mano sì un attimo sì aspetta queste dai così ne diamo subito una per prima cosa vorrei direttare da queste buoni che sono integrali buoni di queste buoni che sono integrali ed è una nuova ricetta si sono della motta e le possiamo trovare in commercio al prezzo di 2 euro e 45 sì sì un attimo poi c'è questo tè al limone che ce ne sono di tre tipi cioè quello al limone e quello alla pesca quello alla ol è vera e è bio e lo possiamo trovare a 90 centesimi quindi qua c'è l'altro ok poi c'è il couscous 100% grano saraceno senza glutine della marca Molino Filippini Valtellina e questo qui sono contenta perché appunto essendo senza glutine lo possono assaggiare Maurizio e Gabriele dietro c'è anche una ricettina e questo qui si può trovare in commercio a 1 euro e 99 ok poi ci sono questi pipas della vela sono dei sono dei biscottini sono dei cracker e li possiamo trovare a 1 euro e 50 poi ci sono queste fox nutri ci sono queste patatine diciamo ah notte snack chips di mais blu sono delle chips di mais blu mais blu no mais blu e sono senza glutine non lo so non c'è scritto e le possiamo trovare a 1 euro e 50 ok poi ci sono questi qui c'è questo pacchetto che ce ne sono altri tre tipi sono della pepe don e sono legumi fatti a snack ah c'è anche questo sono queste qui lenticchie al peperoncino e queste qui ceci lenticchie semi di zucca e che più ne ha qui ne metta l'hai detto a che prezzo si possono trovare no si possono trovare a 99 centesimi ok poi ci sono questi oreumini scusatemi ma l'accontazione è un po' lotta dentro ci sono quattro pacchetti si possono trovare a 1 euro e 69 poi c'è questo c'è il sale con il sale adesso poi ti do un'altra cosa la piastra il sale integrale e zenzero e lo possiamo trovare a 2 euro e 29 no via poi ci sono queste queste bustine di zucchero della dolce di natura e le possiamo trovare a 3 euro e 25 che chiamo questo? che cos'è? questi qua sono i minoreo scusatemi poi c'è questo succo di mela che si può trovare a 1 euro e 99 il ketchup il ketchup ma il ketchup poi c'è il ketchup ma il ketchup e che lo possiamo trovare a 1 euro e 49 poi ci sono gli spaghetti gli spaghetti poi ci sono gli spaghetti che ce ne sono altri tre tipi e sono del panificio di Martino panificio di Martino e li possiamo trovare a 1,20 euro per finire c'è questa birra credo si è birra e aspetta si la birra no no è aceto balsamico di Modena aceto balsamico di di Modena e la possiamo trovare a 4 euro euro e 95 in più dentro c'era anche questo foglietto per una nuova degustabox cold che quest'autunno fa il pieno di bontà per il tuo frigorifero io la proverò e poi vi farò sapere però anche questa qua è interessante adesso vi faccio vedere come al solito tutti i prodotti fatemi sapere se ne avete già visto in commercio qualcuno io qualche d'uno sì altri sinceramente no sono proprio curiosa di provarli spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video ciao 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 1, 2, 3 come on come on come on come on ha